ancora ben trovati dalla redazione di florence multimedia in studio agnesio fedeli cominciamo dall'autostrada in a1 per traffico coda verso nord tra incidere gello e firenze sud sempre in direzione di bologna rallentamenti per incidente tra barberino e aglio ci spostiamo in fipili per traffico rallentamenti tra ginestra e la strassigna per chi viaggia verso firenze uno sguardo al traffico ferroviario informiamo che la circolazione sarà sospesa sulla linea pisalucca dal 30 luglio al 7 agosto il provvedimento si rende necessario per consentire la demolizione da parte del gestore stradale di un cavalca ferrovia in località ripafratta collegamenti tra pisa e lucca saranno garantiti da un servizio sostitutivo con bus prima di salutarci per il traffico urbano di firenze per la cantieristica al via da quest'oggi 27 luglio i lavori di posa di cavi in fibra ottica in via sestese previsti diversi provvedimenti di circolazione tutti i dettagli sui nostri canali social muoversi in toscana infia un servizio in collaborazione con regione toscana città metropolitana di firenze e comune di firenze per ora è tutto buon viaggio